Pure oggi c'è stato il funerale di un altro personaggio molto importante che vorremmo ricordare. Grazie, ci tenevo veramente a ricordare una figura importante, la figura dell'avvocato Manzo, che è stato un grande militante, anche consigliere comunale, appassionato di politica, appassionato di cultura e che ha dato molto alla Fondazione Italia protagonista e quindi tutta la nostra comunità si stringe con affetto alla sua famiglia e nel ricordo ovviamente di questo grande uomo e porteremo nel cuore e cercheremo ovviamente di continuare a trasmettere i valori che lui stesso ci ha trasmesso nel corso di questi anni. Grazie Massaro, prego.